La Chiesa di Santa Maria Nuova La Chiesa di Santa Maria Tra Maceri e Speranza è presentata alla Mediateca Montanari, la mostra fotografica della giornalista Smeda Sciane e di alcuni fotoreporter siriani. Nuovo logo per i 70 anni di Avis Fano. Cristalli di memoria e il libro fotografico del sociologo Maurizio Tomassini. Carnevale di Fano presentata all'edizione 2020. Sbullite Action a Pesaro presentata all'applicazione per smartphone progettata per le scuole contro il fenomeno del bullismo. Il passo lento dell'Alce Rosso, l'ultimo libro dello scrittore Mattias Canapini. Ne abbiamo parlato nel nostro approfondimento. Ben trovati a questa edizione del TG Web edizione che apriamo con un evento molto partecipato. Parliamo della preghiera per la pace che si è tenuta sabato 18 gennaio nella Chiesa di Santa Maria Nuova. Preghiera guidata dal Vescovo Armando. Nonostante il cambio di programma dovuto al maltempo, oltre 500 persone hanno preso parte sabato 18 gennaio alla preghiera per la pace che si è tenuta nella Chiesa di Santa Maria Nuova. Nell'Omelia il Vescovo Armando ha ripercorsi il messaggio di Papa Francesco in occasione della 53esima giornata mondiale per la pace del 1 gennaio scorso. Dal titolo, la pace come cammino di speranza, dialogo, riconciliazione e conversione ecologica. Solo se la vita ci sta a cuore, ha sottolineato il Vescovo citando le parole del Papa, sapremo prendercene cura e superare l'indifferenza che ci avvolge. Chiediamo la grazia di vivere l'anno col desiderio di prendere a cuore gli altri, di prenderci cura degli altri, perché è così che si comincia a pensare all'altro come un fratello e non come un nemico. A sentirsi parte di un'unica famiglia, a scorgere, oltre la paura, mani da stringere, sguardi da incrociare, ovvero in altre parole, asseminare la pace. Tre sono le parole da evidenziare, ha proseguito il Vescovo nel messaggio del Papa, dialogo, riconciliazione e conversione ecologica. E ancora le parole chiave, paura, memoria e speranza. In conclusione, rivolgendosi ai numerosi giovani presenti, ha ricordato che la pace va sempre insieme alla giustizia. Ragazzi, non partecipate mai alla violenza, neanche a quella subdola, solo così potremmo creare la pace. Dopo l'intervento del Vescovo, la parola a Grazia e Saqib del progetto Comunità Educante con i Carcerati dell'Associazione Papa Giovanni XXIII, un percorso alternativo al carcere che ha come obiettivo la rieducazione e la riabilitazione del carcerato. Un uomo recuperato, ha sottolineato Grazia nella testimonianza, non è più pericoloso, mentre la giustizia vendicativa produce persone che scelgono di nuovo la via della delinquenza. È tempo di passare da una giustizia vendicativa a una giustizia educativa. Il progetto non permette solo un grossissimo risparmio economico allo Stato, ma segna l'inizio di un nuovo modo di trattare con chi sbaglia e traccia le linee di nuova umanità. Presente all'iniziativa anche il sindaco di Fano Massimo Seri, l'assessore Samuele Mascarin, il sindaco di Pelgola Simona Guidarelli e l'assessore del comune di San Costanzo Margherita Pedinelli. E dalla chiesa di Santa Maria Nuova ci spostiamo nel borgo di Carignano dove è stato festeggiato Sant'Antonio Abate, un appuntamento molto sentito che rievoca tradizioni del passato da tramandare alle nuove generazioni. Nella riflessione del Vescovo Armando sulla festa di Sant'Antonio Abate, il Vescovo ha messo in evidenza la vita del santo che si può riassumere in due parole preghiera e penitenza. Che cosa dobbiamo imparare da Sant'Antonio? Ha detto il Vescovo, amare il Vangelo e vivere il Vangelo. Amare il Vangelo è il sunto della vita e della dottrina di Gesù. Sant'Antonio è vero e perfetto cristiano che combatte contro i suoi nemici le tentazioni con le armi del silenzio, del digiuno, del lavoro, dello studio, della preghiera e dell'esercizio delle virtù. Siate sentinelle, ha concluso il Vescovo, di un bene che il mondo agricolo ha conservato, ricordando il concetto tanto caro a Papa Francesco, quello dell'ecologia del cuore, accennando alla figura di Sant'Antonio quale protettore degli animali e guaritore e la nascita della devozione popolare nei confronti del santo. E cambiamo argomento, ci spostiamo ora alla Mediateca Montanari, dove lunedì 20 gennaio è stata inaugurata la mostra fotografica della giornalista Smeda Shan e di alcuni fotoreporter siriani dal titolo Siria tra macerie e speranze, curata da Renato Barchesi. Mostra che conclude il progetto didattico degli alunni del Polo 3, gli studenti in prima linea in Siria con Asmeh Da Shan, per comprendere la storia culturale della Siria e il suo patrimonio artistico fino alla distruzione odierna causata dalla guerra. Fotografie che raccontano storie e suscitano emozioni e fanno riflettere. Sono quelle della giornalista italo-siriana Smeda Shan e di alcuni giovani fotoreporter siriani, unite nella mostra Siria tra macerie e speranze, inaugurata lunedì 20 gennaio alla Mediateca Montanari, a introdurre la serata agli interventi del sindaco di Fano Massimo Seri e dell'assessore Samuele Mascarin, che hanno sottolineato l'importante valore e forza delle immagini che raccontano un contesto difficile di guerra e distruzione dove a farne le spese sono soprattutto i civili. A dialogare con la giornalista la professoressa Antonella Ciaroni, introdotta dagli studenti del Polo 3 di Fano, che hanno illustrato in sintesi la figura di Asmeh Da Shan, il suo impegno e i riconoscimenti avuti per la sua attività di giornalista e non solo. Un breve video sulla Siria prima e dopo la guerra, una terra di colori, natura, bellezze storiche completamente distrutte, ha introdotto i presenti nel cuore del tema della serata. La guerra in Siria, spiegato la Dashan, ha cambiato e stravolto il volto dell'intero paese. La Siria, ha proseguito la giornalista da sempre terra che accoglie, è diventata un luogo da cui fuggire. La collettiva fotografica racconta in immagini la vita dei civili immortalati tra le strade di Aleppo, Damasco, Oms e altre città. Donne, bambini, anziani, giovani, inermi, privati del diritto alla pace, alla libertà e a una vita serena. Ciò che io e i fotoreporter Siriani abbiamo immortalato sono davvero pezzi di storia. Ogni foto racconta una realtà. Ciò che mi ha colpito maggiormente, ha raccontato la Dashan, mostrando una fotografia a lei particolarmente cara, è stato l'incontro con una bambina di 4 anni rimasta orfana dopo che un bombardamento aveva colpito i suoi genitori. Nel parlare con la nonna che si sta prendendo cura di lei, ho scoperto che il padre della piccola era un giornalista che per diverso tempo ha collaborato con me nel raccontare la situazione in Siria. e devo dire che questo mi ha particolarmente emozionato. E i giovani sono stati coinvolti anche nella realizzazione del logo di Avis Fano in occasione dei 70 anni dell'Associazione. Primo premio all'elaborato di Davide Servadio, i particolari nel prossimo servizio. In occasione dei 70 anni, Avis Fano ha un nuovo logo presentato ufficialmente martedì 21 gennaio nella sala di rappresentanza della Fondazione Cassa di Risparmio di Fano. La commissione, composta da Marco Savelli, presidente di Avis Fano, Giuseppe Franchini, consigliere Avis, Mauro Chiappa, professionista, e Caterina Delbianco, assessore alla cultura del comune di Fano, ha dovuto, non senza difficoltà, vista la bellezza e la cura dei dettagli degli elaborati pervenuti, scegliere tra i lavori presentati dagli studenti del liceo artistico a Polloni e del corso di grafica pubblicitaria dell'Istituto Seneca. A prescindere dal fatto che il vincitore è uno, ha sottolineato Franchini, vorrei mettere in evidenza il risultato collettivo. Questo è un premio al mondo giovanile, alla vostra creatività, ha affermato rivolgendosi agli studenti presenti in sala, al vostro entusiasmo, alla vostra voglia di esserci e di essere protagonisti del nostro tempo. Nella rosa dei primi tre elaborati, scelti dalla commissione, al terzo posto Matteo Brunetti, Gianluca Tinti, Michael Sabatinelli, Luca Bassotti, Giorgio Schiavoni, del liceo artistico Adolfo Polloni, secondo premio per Nicole Guiducci, della terza C grafica pubblicitaria Federico Seneca, istituto che ha vinto anche il primo premio e quindi il logo ufficiale di Avis Fano, con l'elaborato di Davide Servadio, della quarta B. Data la bellezza degli elaborati e l'impegno degli studenti nel realizzarli insieme ai docenti, la commissione ha scelto di dare anche quattro menzioni speciali, a Parisi Matilde, del liceo artistico a Polloni, come elaborato artistico, e Andrea Martelli, Leonardo Catalani e Luca Fin, della quarta B grafica pubblicitaria Federico Seneca. Gli studenti, visibilmente emozionati, hanno ricevuto il premio, frutto di tanto lavoro e impegno. Durante la mattinata di premiazioni, il presidente di Avis Fano, Marco Savelli, ha presentato anche i progetti che la sezione quarta B design dell'arredamento del liceo artistico a Polloni di Fano, ha ideato proprio per questo importante anniversario di Avis Fano. Tre panchine che richiamano il valore della donazione e che il presidente Savelli ha annunciato che si impegnerà insieme all'amministrazione comunale a realizzarle. E torniamo a parlare di fotografia, perché sabato 18 gennaio, nella sede dell'Università dei Saperi di Fano, in via dei Cuppis 7, il sociologo Maurizio Tomassini ha presentato il suo libro fotografico dal titolo Cristalli di Memoria. Una Fano tra fine anni 60 e primi anni 70, quella che il sociologo Maurizio Tomassini ha immortalato nel suo libro dal titolo Cristalli di Memoria, presentato sabato 18 gennaio nella sede dell'Università dei Saperi di Fano. Una presentazione molto partecipata in cui Tomassini, introdotto da Paolo Lucarelli dell'Università dei Saperi, il quale ha voluto leggere alcune parole che il regista Leandro Castellani ha dedicato a Tomassini al suo libro, ha dialogato con il ricercatore sociale per Paolo in Serra. Le foto di Maurizio Tomassini, ha sottolineato in Serra, immortalano tematiche molto attuali ancora oggi. Una carrellata di foto, come ha sottolineato lo stesso autore, scattate tra il porto, aspetto su cui Tomassini si è concitrato maggiormente, la città, il mercato del pesce, il quartiere dei piattelletti di lui caro, il mercato di San Paterniano, detto Ferri Vecchi. E poi ancora le foto degli anziani seduti sulle panchine, degli amici della scuola, dell'esperienza di telefano e dei balletti classici alla corte malatestiana. E parliamo ora di Carnevale, tutto pronto per l'edizione 2020 della Kermes, in programma il 9, il 16 e il 23 febbraio, tre domeniche di grandi eventi presentati in conferenza stampa. Allegria, colori, dolcezze, beneficenza e un chiaro e deciso messaggio all'importanza dell'ecosostenibilità. Sono questi gli ingredienti dell'edizione 2020 del Carnevale di Fano, presentata mercoledì 22 gennaio nella Sala della Concordia del Comune di Fano. Tutto pronto per dare il via a uno degli eventi più imponenti del Centro Italia che quest'anno, come ha sottolineato la Presidente dell'ente carnevalesca Maria Flora Gianmarioli, si intitolerà I sentieri dell'eco, casca il mondo, casca la terra, tutti giù per terra. Veri protagonisti delle tre domeniche che solcheranno via le Gramsci, il 9, il 16 e il 23 febbraio, i giganti di carta pesta. Si potrà ammirare una giovane Greta Thunberg in carta pesta, realizzata dal maestro Mauro Chiappa e dall'associazione Fanta Gruel. La potenza inaudita della natura secondo il maestro Matteo Angherà e l'associazione Carnival Factory è ancora il carro della maestra Valeria Guerra che farà riflettere su come il futuro della terra sia tutto nelle nostre mani fino ad arrivare alla natura con il vita natural durante della maestra Anna Mantovani. Nuova veste anche per il carro del pesce azzurro che prenderà il nome di Super Azzurro, un originale pesce che cerca di salvare il mondo dall'inquinamento e la grande novità di Capitan Aset di Luca Vasilic con la collaborazione della municipalizzata fanese che ci presenta un supereroe alla caccia dei furbetti della differenziata. Non mancheranno ovviamente i carri storici del Carnevale di Fano come gli immancabili Voulon e Ararabita accompagnati dal partner consolidato Costa Parchi. Tra le novità dell'edizione 2020 la notte dei colori fuori tutto è Carnevale in programma sabato 15 febbraio che trasformerà il centro storico in una grande festa in maschera a cielo aperto con la possibilità di fare acquisti scenari e ristoranti e consumare nei bar a prezzi scontati. Parter variegato di ospiti dalla cultura alla comicità passando per la musica ai balli. Si parterà con la Chica Scuba Show domenica 16 febbraio sarà invece affidata ad Antonio Mezzancella vincitore di tale quale show. L'ultima domenica protagonista sarà il cantautore Povia che si esibirà al Pincio. Chiuderà le danze un comico che ha calcato tra gli altri il palco di Zelic Circus e che ha fatto dell'ecologia il suo pane quotidiano. Diego Parasole o come si definisce lui l'eco comico si esibirà durante il martedì grasso con un grande spettacolo di chiusura che anticiperà il consueto rogo del pupo. Il Carnevale di Fano anche quest'anno avrà un contenitore per tutti gli eventi collaterali sarà il loft di Casa Arredo che si trasformerà nel palazzo del Carnevale un luogo di culto dell'arte in tutte le sue sfumature dove si alterneranno per tutto il periodo carnevalesco mostre, convegni, degustazioni e concerti non mancherà anche la solidarietà il Carnevale di Fano infatti sosterrà la fondazione Teleton per le tre giornate del Carnevale una parte del biglietto d'ingresso alla manifestazione sarà devoluta alla fondazione tra le novità per la prima volta Kinder darà il via festeggiamenti animerà la giornata di inaugurazione domenica 9 febbraio nello spazio dedicato presso il villaggio Kids nell'area Pincio e ci spostiamo ora a Pesaro precisamente nella sede di Banca Intesa San Paolo dove giovedì 16 gennaio si è tenuta la presentazione di Sbullitection promosso dalla fondazione Vento in collaborazione con Digital Ideators progetto che si concretizza in un'app per smartphone progettata per le scuole per contrastare il fenomeno del bullismo un progetto per prevenire il disagio giovanile volto in particolare a contrastare il fenomeno del bullismo è questo Sbullitection promosso dalla fondazione Vento in collaborazione con Digital Ideators progetto che si concretizza in un'app per smartphone progettata per le scuole presentata a Pesaro nella sede di Banca Intesa San Paolo ad aprire la conferenza moderata da Patrizia Fabretti di Ceo Blue Home Milano ufficio stampa Sbullitection Mario Zamboni presidente della fondazione Vento lavorando da anni con la disabilità sappiamo bene che il disabile in generale è solitamente la prima vittima del bullo da qui abbiamo iniziato a analizzare il fenomeno e abbiamo notato che nella maggior parte dei casi ai bulli mancano punti di riferimento che possano trasmettere loro sani valori l'app che abbiamo creato ha proseguito Zamboni a una doppia finalità quella di educare i ragazzi a un uso consapevole dello smartphone e ridare loro quell'autostima che possa portarle ad avere un rapporto più corretto con i loro coetanei diversi sono stati gli interventi di enti e associazioni che collaborano e prendono parte al progetto una rete fondamentale per raggiungere gli obiettivi a iniziare da Erika Morri fondatrice del progetto Quando io valgo tu vali il cui obiettivo come ha sottolineato la stessa fondatrice è quello di contribuire alla crescita dei ragazzi e delle ragazze lavorando sulle diverse sensibilità e attitudini che si esprimono nel mondo sportivo e artistico creando un'occasione di confronta all'interno delle classi Andrea Evangelisti delegato italiano del comitato Parolimpico e Francesco Troiani presidente Scudo Volley hanno messo in evidenza l'importanza di questo progetto e l'appoggio del mondo dello sport per la riuscita Samuele Garofoli presidente di Marche Music College ha illustrato una sezione specifica della app ovvero Creativity insieme alla fondazione evento abbiamo pensato a una sezione che tenda a stimolare la creatività e che possa mettere insieme i ragazzi su temi specifici la parola infine a Giulio Mancin della Digital Ideator che ha illustrato nel dettaglio l'app realizzata con una grafica intuitiva e curata di semplice utilizzo al suo interno vi sono diverse sezioni quella dedicata ai quiz suddivisi in livelli di difficoltà alla cui conclusione il giocatore potrà ricevere una gratification digitale che potrà essere condivisa sui principali social una walkscape a premi da giocare a squadra la sezione social dove sarà possibile condividere la propria esperienza anche con foto e video il filtro sui contenuti renderà questo spazio sempre disteso e piacevole allontanando contenuti violenti e offensivi inoltre nell'app è presente anche una pagina contatti di aiuto nella quale sono inseriti numeri telefonici da chiamare per segnalare abusi o violenza psicologica sabato 11 gennaio è stato presentato a piaggia anzi sono state presentate a piaggia due iniziative la mostra fotografica oltre il sisma e il libro il passo dell'acero rosso alberi pecore e macerie entrambi sono curati dallo scrittore mattia scanapini che abbiamo qui con noi oggi ciao mattia buongiorno dunque innanzitutto il perché di questo titolo e come nasce questo tuo libro sì in pratica il 24 agosto del 2016 mi trovavo in Lucania per accogliere delle storie legate al mondo contadino e udendo la radio la notizia del terremoto che ha colpito Amatrice e dintorni più che un'esigenza è stata quasi sì è stata una scelta ma soprattutto un'esigenza il fatto di correre nelle nostre zone e tentare di raccontare queste storie legate appunto al sisma e da quel momento in poi ogni tre settimane per un anno e mezzo ho deciso di appunto raccontare a passo lento queste storie e intraprendere una serie di viaggi a piedi all'interno del cratere stanno dando questo cammino insomma dalle epicentri fino alle zone più remote del cratere e riordinando gli appunti che appunto andavano dal 24 agosto 2016 fino al febbraio 2018 mi sono reso conto che fosse il titolo più appropriato era proprio il passo dell'acero rosso perché per un anno e mezzo ho camminato all'interno del cratere con un bastone un acero rosso nel silenzio dei pascoli nel silenzio dei boschi e nel silenzio anche delle macerie sembrava quasi avesse vita propria questo bastone e dunque riordinandogli appunti pensando a un titolo appunto ho realizzato questo il passo dell'acero rosso come se avesse vita propria e in questo tuo cammino tu hai incontrato immagino tante persone hai ascoltato tante storie che cosa ti è rimasto che cosa ti ha colpito di queste storie che hai sentito sì le storie sì sono davvero tante da una parte a distanza di tre anni e mezzo andiamo per i quattro anni dal terremoto mi ha colpito la tanta indifferenza diciamo da parte non solo dello Stato delle istituzioni in generale ma la grande comunità la grande umanità che si è creata è una situazione molto difficile ogni volta che si va nel cratere sembra quasi di entrare dentro una trincea dentro una bolla dove all'esterno davvero arriva poco e passa poco ma ci sono appunto dei focolai dei gruppi chiamiamoli delle comunità dei gruppi di resistenza dove si torna una sorta di a respirare un'aria di famiglia che tentano di abbandonare quei luoghi proprio perché l'Appennino non solo può essere un lancio per un nuovo mondo ma proprio ti segna un nuovo modo di stare al mondo e quindi questa colonna vertebrale che è un po' diciamo il nord del centro del sud Italia in molti la vedono un po' come una spinta verso appunto una nuova umanità un nuovo popolo un nuovo modo di stare al mondo tu sei abituato diciamo a raccontare scenari di guerra quello che ha provocato la guerra in questo caso hai visto uno scenario di guerra ma di una cosa diciamo dovuta cioè naturale ecco di un terremoto però credo che lo scenario più o meno di distruzione ecco non sia tanto diverso o lo stato d'animo insomma delle persone esatto prima di questo progetto sono andato alla ricerca delle conseguenze di un conflitto ma anche guerra attuale quindi la Siria l'Ucraina mi sono spinto in Vietnam Cambogia Georgia e altre zone camminando nel cratere mi sono reso conto di questo che quasi è stato un lampo diciamo abbastanza limpida come sensazione il fatto di trovarsi in mezzo a una guerra ma non combattuta da carri armati né da eserciti né da pistole ma appunto un evento naturale una crepa della terra che ha riportato un po' a se stessi un po' diciamo a stravolgere tutto quanto e tornare appunto all'essenziale dell'uomo perché nel giro di 30 secondi un minuto ti ritrovavi senza nulla per strada e quindi si è camminando ho detto è una guerra fatta di sfollati di morti e di feriti però questa volta è sotto casa bene un'ultima domanda Mattias hai in mente altri libri hai in mente altri viaggi ripartirai a breve io sono tornato circa tre settimane fa da un viaggio di quattro mesi nel West Africa e tornando mi sono fermato a Lampedusa perché sono due anni che seguo le rotte dei migranti e profughi lunghi confini d'Europa quindi sicuramente continuare questo progetto ma a breve insomma tornerò anche nel cratere per portare avanti questa iniziativa proprio perché legata al libro e alla mostra fotografica anche di sabato a piaggia c'è legata una raccolta fondi in pratica con il ricavato dei libri parte del ricavato dei libri se riuscite ad acquistare un tot di sacchi di pellet con cui sostenere l'agrinido di Federica di Luca che è la quercia della memoria situata a Ballato di San Genese in provincia di Macerada e quindi ci piace appunto portare avanti queste storie raccontare il sisma non solo perché è doveroso farlo ma anche per tentare di sostenere quelle comunità che a distanza di quattro anni sono lasciate sole c'è sempre più bisogno di essersi e di raccontare di raccontare certo grazie Mattias innanzitutto per la tua testimonianza e noi il TG finisce qui noi vi diamo appuntamento alla prossima settimana e vi ricordiamo che è possibile seguire le nostre edizioni sul sito fanodiocesitv.it grazie per essere stati con noi e arrivederci grazie a tutti